Ben trovati al commento sul Vangelo della Domenica. Siamo giunti alla undicesima Domenica del Tempo Ordinario, anno B. Marco ci racconta. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata l'emititura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senapa, che quando viene seminato sul terreno, è più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto. E fa se i rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parole, non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ecco allora, anche qua, l'incontro con la parola di Dio, possiamo mettere tre punti saldi. Il regno cresce comunque, il regno ora è nel seme e le occasioni di oggi. Il regno cresce comunque, Marco ti dice che viene seminato e poi si passa già alla mettitura. Non ci sono tutte le realtà intermedie, quelle che magari abitando ancora nelle nostre campagne possiamo vedere, no? Tutta quell'attenzione, preparare, attenzare, rincalzare, verificare, innaffiale che noi possiamo trovare. Invece qua c'è quella cosa, il seme cresce comunque e il regno cresce comunque. Cresce comunque così come la luce splende, senza che noi possiamo farci qualcosa, come nulla può rimanere nascosto quando Dio apre la strada. Ed è bello questo, nel senso che Dio apre la strada e nulla rimane nascosto. E tutto viene manifestato nella sua bellezza. Questo a noi discepoli cosa dice? Dice che dobbiamo liberarci da tutte le ansietà, da tutte le preoccupazioni. Oddio, crescerà, non crescerà, cosa succederà, cosa non succederà. Il regno cresce comunque. Il seme è custodia del regno. E allora ecco la novità. Il regno dell'ora, il seme in quest'ora. È importante la situazione presente. È importante l'oggi, quando il seme viene gettato. È importante l'occasione in cui io incontro la parola e questa parola mi viene donata. È importante comprendere che il regno di Dio è in questo seme, nella sua potenzialità, nella sua vitalità, nella sua anche grandezza e intenzione verso il futuro. Il discepolo quindi, se da una parte, col regno che cresce comunque, ci deve liberare da ogni ansietà, con il fatto del regno che ora è nel seme, deve essere anche capace di vivere ogni occasione. Viverla come opportunità, opportunità di incontro, opportunità di testimonianza, opportunità di vita, opportunità di gioia. Le occasioni che ci offrono e che vengono offerte oggi, anche se piccole, fragili, ma noi possiamo magari anche insignificanti, invece nascondono una grande potenzialità, anzi nascondono una realtà, la presenza stessa del regno. Ecco che allora comprendiamo la bellezza e l'importanza di queste due parabole, di questa serenità del seminatore e questa importanza di cogliere il momento nel quale noi come terreno siamo seminati e l'importanza con cui anche noi diventiamo seme per gli altri con il nostro incontro, con la nostra testimonianza, con il nostro sorriso, con la nostra gioia. Accogliamo allora questa opportunità e magari nel tempo, quando passiamo davanti ai campi che più o meno biondeggeranno per la metitura o saranno già in momenti di raccolta, pensiamo proprio a questo. Anche noi siamo semi e anche noi siamo chiamati a maturare al sole dello spirito. Buona domenica. Buona domenica. Buona domenica. Buona domenica. Buona domenica.